E' tutto pronto a Disernia per l'atteso evento del Carnevale Europeo delle Maschere Zomorfe. 12 gruppi provenienti da tutto il mondo, oltre 300 figuranti e migliaia di turisti affolleranno le strade della città in un tripudio di colori, di maschere e di musiche. L'evento, la sua seconda edizione, è caratterizzato da una importante struttura logistica e organizzativa per accogliere al meglio i turisti e per non creare disagi alla cittadinanza. Questo evento si conferma un grande evento di rilevanza nazionale e anche internazionale, che sta dando veramente grande visibilità alla città di Sernia e al Molise. Saranno presenti, come sapete, 12 gruppi, 300 figuranti, abbiamo prenotazioni da tutta Italia, tutte le strutture sono occupate, tutti i ristoranti hanno avuto prenotazioni. Quindi questo ci rende molto orgogliosi della cosa perché l'iniziativa ha una ricaduta economica e di flussi turistici importante sul territorio. Per l'evento Clou di sabato 24 febbraio, con la sfilata delle maschere zoomorfe, sono stati predisposti dall'amministrazione comunale due punti di parcheggio principali, uno alla rotonda di Santo Spirito e l'altro al vecchio termine al bus. Sarà una navetta a condurre i visitatori al centro città. Il percorso rimane invariato rispetto allo scorso anno. Si partirà dall'auditorium Unità d'Italia, dove i gruppi si vestiranno e si prepareranno, per poi raggrupparsi e partire ufficialmente dall'ingresso del parco stazione in via Libero Testa. Il pubblico potrà vedere la sfilata da Corso Garibaldi, quindi poi tutto Corso Garibaldi, via Lorusso, piazza Carducci, piazza San Pietro Celestino, piazza 10 Settembre e piazza Andrea di Sernia. Per l'evento sono stati coinvolti tutti gli attori del territorio, dai ristoratori, le associazioni, gli esercizi commerciali. Le strutture ricettive sono già piene e per questo sono stati allestiti diversi punti per lo street food.